Buongiorno a tutti ragazzi, da Zebra. Stanno circolando voci che Chiesa lascerà la Juventus. Tu cosa ne pensi? Prima di continuare mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale e lasciate un bel like al video. Parliamo di Federico Chiesa. Perché dovrebbe lasciare la Juventus? E io mi pongo una domanda. Effettivamente è lui che vuol lasciare la Juventus o la Juventus che vuol mandare via Federico Chiesa? Andiamo ad analizzare un attimo la situazione. Federico Chiesa è un anno della scadenza, nel 2025. Quindi o rinnova per dare la possibilità alla Juventus di rivenderlo ad una certa cifra, anche se le sue prestazioni non sono state di leghe fino adesso ragazzi, dopo l'infortunio, oppure lo deve cedere. Se no va a parametro zero. Allora si parla che può essere che non entri nel progetto di Motta, cioè non si integra nella tattica di Motta, del nuovo allenatore. Quindi è Motta che ha deciso di metterlo sul mercato. Oppure, ed è quello che io penso, che è la Juventus, che mi sa, mi sa, vuol lasciare andare via Federico Chiesa. Primo, per poter monetizzare e per poter investirli dove? Sul famoso centrocampo, dove la Juventus sta rivoluzionando. Perché sappiamo tutti l'ingaggio di Federico Chiesa, quanto pesa sulle casse della Juventus. Visto che la società, in questo momento, ha deciso, anzi già dall'anno scorso, ha deciso di abbassare a tutti i Montengaggi. Soprattutto a coloro che sono onerosi. Se vedete, Chiesa ha scelto, e oggi è sbarcato a Torino, l'Evise Regine Medical, l'ex portiere del Monza. Quindi, la Juventus sta portando avanti, principalmente Giuntoli, sta portando avanti quella rivoluzione, non solamente tecnica e tattica, ma soprattutto quella rivoluzione economica. E non escluderei Vlaovic. Occhio a Vlaovic, ora non se ne parla, è il punto fondamentale della Juventus. Ma anche lui ha un bel peso economico sulle casse della società. Ma adesso, chi ha il problema principale è su Federico Chiesa. Quindi, secondo voi, può essere un problema effettivamente di allenatore che è la tattica, oppure la società che vuole liberarsi di questo peso economico? Perché comunque, Federico Chiesa, vi ricordo, che se dovesse rinnovare, lui vorrebbe rinnovare a delle cifre diverse. Di certo non accetterebbe di abbassarsi le cifre. Ecco dov'è il problema. Allora, ragazzi, se dovesse partire Federico Chiesa, c'è Sancio. La Juve va su Sancio. Voi mi direte, sì, ma è uno scarto del Manchester United, scusate. Del Manchester United? Sì. Si troverebbe la quadra per portare alla Juventus. L'unico problema, l'unico problema sarebbe l'ingaggio. Ma potrebbe essere che al primo anno, prestito, l'ingaggio se lo va a collare il Manchester United? Non lo so. Ma Sancio sarebbe un buon esterno, ragazzi. Non tutto il rispetto. Anche se ha fatto schifo al Manchester United, ma ora chi va va, anche il Bappé se va al Manchester United farebbe schifo, ragazzi. Perché il Manchester non ne sta beccando una. E dico una. Quindi è tutto da vedere. Ma ripeto, quello che io cerco di... Quello che vi chiedo, secondo voi, è la Juve o chiesa che vuole lasciare la Juventus? Fatemi sapere. Vi saluto. Lasciate un bel like. Ciao, ragazzi.